Tutti appartengono a Dio. I più brutti peccatori, la gente più malvagia, i dirigenti più corrotti, sono figli di Dio. E Gesù sente questo intercede per tutti. E il mondo vive e prospera grazie alla benedizione del giusto, alla preghiera di pietà. A questa preghiera di pietà che il Santo, il Giusto, l'Intercessore, il Sacerdote, il Vescovo, il Papa, il Laico, qualsiasi battesato, eleva incessantemente per gli uomini, in ogni luogo e in ogni tempo della storia. Pensiamo a Mosè, l'Intercessore. E quando ci viene voglia di condannare qualcuno e ci arrabbiamo dentro, ma arrabbiarsi fa bene. E un po' di salute, ma condenare non fa bene. Tu ti arrabbi, cosa devi fare? Vai a intercedere per quello. Ci aiuterà tanto. Grazie.